salve a tutti amici iscritti e benvenuti sul canale di paolo paolo in uva originale iscrivetevi al canale di anche di paolo paolo in uva est a franco francesco fan mettete più mi piace condividete e commentate e oggi facciamo la reaction al canale di franco francesco e francesca con l'aiuto poppo di beribisco dovevano scrivere due r va bene cominciamo questo è l'eniloud di a casa dei loud questa è la seconda registrazione ho avuto un sacco di problemi con il mio computer di merda cattivo si loro hanno saltato la sigla delle beribisco allora grazie di aver visto ne farò altri ma stavolta con betse farete la youtube o degli universi episodio 4 betse a la rabbia si infuria con voi ok meglio le youtube o di beribisco che fate no quella merda degli universi capito ma continuate lo stesso siete bravi mitici siete bravi a novembre farò la sigla perché l'uomo delle tette perché nessuno che vogliono fare il bagno il pirata bascante nick watch c'è praticamente la cosa più stupida del mondo praticamente non fa schifo che scemo set lo so praticamente è una parola che dicono tutti che è buona ma fa schifo la parola lo detestano i pauli e qua c'è la youtube pop di pablo stefano ciò per gli occhi a beribisco sete che ha preso da squidi che dice pizza è stata offerta dalla casa mamme cavolo bravo gambolo così mi piaci poi francesco che sono davanti ai dal bar tatino e tatino con la censura perché se il menù non è approvato bobi lo so perché i menù sono approvati bravi sinisperi dicevano qua che schifezza voglio avere una bibita brutta par tra si bravo squidi che vuoi la bibita e già che cavolo lo so franco e francesco lo sto registrando con la webcam per chi ha fatto un clicchio questa è la sigla di cristina lavena del laboratorio test è carina coco ma cosa vogliamo passiamo via far rispettare far rispettare che dice sos invece del indovina con l'uomo delle granite ci sono franco e francesco dicono i mini youtuber francesco si francesco il nicolaud perché si perché non è francesco perché il nicolaud non è francesco il vero francesco apparirà nelle altre puntate delle beribisco francesco questa è la mamma di lincoln loud perché l'ho rappresentata così perché si nico watch grazie grazie ok nella anyhow ljudi mano francesco o nico s sì p cattivone, del pirata praticamente, cattivissimo, stupide e irrasci, sto per conquistare il mondo, ehi su, pirata praticamente, beccati questo, si con il minion, super calcio, super defraudmante, invece delle belle visgo che combattono, è il padre di Lincoln, cioè quello che ha perso il compleanno di Bobby parte 2, il padre è la Maisy, è quello Francesco che è il papà Francesco del mondo degli universi, questa è la pubblicità di Hilda, si ricordate, perché ho dimenticato la parte parlante di Kazza che dice, ecco, per voi le granitte, vabbè non mi importa, è un errore di serie, e Gambo che lo odia e dice, io devo distruggere questa loia, così ce l'ho un po' sprona, basta, basta, musica, basta, fa ridere, che bella miniatura, lo so che avete visto il pugno della mano di Tagos, che picchiava lo schermo del mio computer, perché il mio computer salta internet, meglio il computer di lo adesso, perché è bello, va bene ragazzi, questa è la reaction della mitica e bellissima YouTube Hop di Baby's Go, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo reaction video, salve a tutti amici, salve a tutti. Sì, tu 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 tu, ti devi spaventare, ti devi spaventare, tu tu tu, tatta, tatabu, anche in bianco, tata, tatabu, anche in bianco, tata, tatabu, anche in bianco.